Si legge NIDI, significa misura regionale destinata alle compagini giovanili, imprese femminili, nuove imprese, cooperative e sociali, con l'obiettivo di agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro. E poi PIA Turismo, i programmi integrativi di agevolazione, rivolto alle imprese di ogni dimensione per la concessione di agevolazioni, per l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione di immobili destinati o da destinarsi all'attività turistico-alberghiere, per lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali del territorio. Queste misure hanno prodotto nella vecchia programmazione del 2014-2020 la bellezza di oltre 40.300 nuovi occupati per le 19.000 aziende che hanno utilizzato queste misure. Una forza importante per rafforzare il sistema produttivo e occupazionale nella nostra provincia e in tutta la nostra regione. Dei risultati già ottenuti da queste misure si è discusso in aula consigliare a Grottalie. Non sbetteremo di insistere con queste iniziative perché c'è la necessità di continuare a informare la popolazione circa le misure adottate dalla regione Puglia in funzione dell'occupazione e dello sviluppo economico. Il PD di Grottalie sarà molto attento su queste iniziative grazie ai nostri consiglieri provinciali e regionali che ci mettono anche il loro contributo per darci queste notizie.